benvenuti al primo appuntamento con i vini dell'azienda agraria colle uncinano io sono tommaso biondi noto bevitore di vini qui oggi davanti a me ho un'ottima bottiglia di vino bianco un trebbiano spoletino superiore non filtrato annata 2015 questo vino come appunto già detto è un bianco e ha una gradazione di 13 gradi e mezzo quindi non è filtrato quindi potete vedere il vino che non è perfettamente limpido ovviamente per iniziare la descrizione di questo vino bisognerà aprirlo altrimenti ci resterà difficile sentire l'odore e il sapore di questo di questo grande vino bianco andiamo ad aprirlo ricordiamo che va degustato alla temperatura giusta quindi né troppo caldo né troppo freddo questo vale sia per i vini bianchi che ovviamente per i vini rossi voilà tappo ottimo adesso andiamo a versarlo facciamo prendere un po di ossigeno al vino come potete vedere il colore è un giallo paglierino un po velato con riflessi verdognoli sentiamo l'odore fruttato con sentori agrumati frutta tropicale e note minerali un altro sorsetto buono prima di descrivere la vinificazione di questo di questo vino viene fatta la vinificazione con una tecnica molto particolare che si chiama criomacerazione in cosa consiste consiste nel prendere le uve appena raccolte e abbassarne drasticamente la temperatura con del ghiaccio secco e viene lasciata a riposo per almeno due giorni prima della fermentazione questo vino ha un affinamento in botti di acciaio inox per almeno otto mesi per una bellissima cena con gli amici potete abbinarlo a frutti di mare a pesce carni bianche formaggi e antipasti quindi a questo punto non ci resta che preparare una bella cena invitare gli amici e degustarci questo ottimo trebbiano superiore non filtrato dell'azienda agraria colle uncinano salute l'azienda agra l'azienda agra